No, questo non è un ufficio degli oggetti smarriti. La bottega di un restauratore o un mercatino dell'antiquariato. Questa immensa catasta di oggetti è in realtà un enorme vuoto. È il simbolo di una grande amnesia. Certo, anche se non ci sono targhe alla memoria, questo potrebbe essere un museo, suo malgrado. Un museo che racconta di noi. Forse qui dentro, chi lo sa? Potreste trovare anche qualcosa di vostro. Perché la storia che si nasconde qui dentro appartiene a tutti. È anche la vostra storia. La storia di una delle più grandi tragedie mai vissute in Italia nel 1900. Siamo al confine più a est del paese. Esattamente nel porto vecchio di Trieste. E questo è il magazzino numero 18. Il nostro canale è un'unica di 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 un